Salpato dalle Avre il 3 maggio 1882 per un viaggio nei mari della Cina, il tre alberi Nostra Signora dei Venti rimpatriò nel porto di Marsiglia all'8 agosto 1886, dopo quattro anni di navigazione. Sbarcato il primo carico nel porto cinese di destinazione, ne aveva trovato uno nuovo per Buenos Aires e di là imbarcato merci per il Brasile. Altre traversate, avarie, soste per riparazioni, Bonacce durate mesi, venti che l'avevano spinto fuori rotta. Tutto ciò che di buono e di cattivo insomma può capitare in navigazione. Aveva tenuto lontano dalla patria quel tre alberi normanno che navigava a Marsiglia carico di scatole di conserva americane. Alla partenza, oltre il capitano e il secondo, aveva a bordo quattordici uomini di equipaggio, otto normanni e sei bretoni. Al ritorno di bretoni non ce n'erano più che cinque e di normanni quattro. Un bretono era morto in navigazione. I quattro normanni, spariti in circostanze varie, erano stati sostituiti da due americani, da un negro e da un norvegese, ingaggiato una sera in una taverna di Singapore. La glossa nave, con le vele imbrogliate e disposte a croce sull'alberatura, tirata da un rimorchiatore del porto che le sbuffava davanti, rullando su quel podonda che andava scemando per la sopravvenuta buonazza, passò dinanzi al castello d'If, quindi sotto le grigie rocce della rada, che il sole al tramonto velava ad un pulviscolo d'oro. Ed entrò nel vecchio porto, dove fianco a fianco si pigiano, lungo i moli alla rinfusa, navi di tutto il mondo, grandi e piccole, da ogni forma e attrezzatura, mescolate come in un caciucco, in quello stretto bacino pieno di acqua putrida, dove gli scafi si rasentano, si sfregono l'uno contro l'altro, messi tutti nello stesso brodo. Nostra signora dai venti trovò posto tra un brigantino italiano e una goletta inglese, che si scostarono per lasciare il passo al collega, e quando tutte le formalità portuali e di dogana furono sbrigate, il capitano autorizzò due terzi dell'equipaggio a passare la sera a terra. Era scisa la notte, Marsiglia si illuminava. Nella calura di quella sera d'agosto un odore di cucina all'aglio fluttuava sulla città rumorosa, risonante di voci, di rotolii, di schiocchi, di allegria meridionale. Sbarcati che furono, i dieci marinai, che per mesi e mesi avevano conosciuto soltanto il rollio della navigazione, si misero in cammino, lentamente, a due a due, in processione, con esitazioni da uomini spaisati, non più abituati ad una città. Indecisi, cercavano di orientarsi fiutando i vicoli che davano sul porto, infiebbrati dall'appetito d'amore cresciuto nei loro corpi durante gli ultimi settanta giorni di mare. I normanni andavano in testa, guidati da Salestin Duclos, un giovanotto alto, forte e scaltro, che aveva già fatto da guida agli altri ogni volta che avevano messo piede a terra. Egli sapeva indovinare i posti buoni, organizzava burle di un genere tutto suo, non si mischiava troppo nelle baruffe che nei porti scoppiavano così di frequente fra marinai. Quando vi si trovava preso, non aveva però paura di nessuno. Dopo qualche esitazione, alla vista di tutte le vie buie che scendevano verso il mare come tante chiaviche e da cui venivano odori grevi, qualcosa come un tanfo di bugigattolo, Salestin si decise per una specie di corridoio tortuoso, lungo il quale sulle porte spandevano la loro luce delle lanterne sforgenti, con numeri enormi segnati su vetri colorati appannati. Sotto la stretta volta degli ingressi, delle donne ingrembiali, rassomiglianti a serve, stavano sedute su sedie di paglia. Vedendoli venire, si alzarono, raggiunsero il rigagnolo che divideva in due la via, e tagliarono il passo alla fila dei marinai che avanzavano lentamente, canterellando e schignazzando, da infuocati dalla prossimità di quelle prigioni di prostitute. Talvolta, in fondo un vestibolo, nell'inquadratura di una porta interna, imbottita di cuoio marrone, spalancatesi d'un tratto, appariva una ragazza discinta con cosce pesanti e polpacci grassi, che si disegnavano prepotentemente sotto una maglia di cotone bianca. La corta gonna, più che gonna abbondante cintura, il seno floscio, le spalle e le braccia facevano sul busto di velluto nero, forlato di una guarnizione di oro, una gran macchia rosa. Di là lanciava l'invito «Venite, vai maschioni!» e qualche volta anche usciva sulla strada per attaccarsi a uno di loro e tirarlo dentro con tutta la sua forza, aggrappandosi come il ragno che trascina una preda più grossa di lui. L'uomo, eccitato da quel contatto, faceva una debole resistenza, e gli altri si fermavano a guardare, esitando tra la voglia di entrare senz'altro e quella di prolungare ancora la stuzzicante passeggiata. Ma quando, dopo tanti sforzi, la donna era riuscita ad attirare il marinaio sin sulla soglia, dove tutta la masnada si sarebbe ingolfata dietro di lui, improvvisamente se la stenduclo, che di case chiuse si intendeva, «Non lì, Marchand, non è il posto!» Obediente, allora l'uomo si svincolava e il trappello si ricomponeva, inseguito dalle sconce ingiurie delle ragazze imbestialite, mentre lungo tutto il restante tratto di vicolo, attirate dal rumore, altre donne uscivano sulle soglie e lanciavano con la voce roca richiami pieni di promesse. Così, sempre più infocati, avanzavano tra le moine e gli calcamenti, e sulle soglie non ancora oltrepassate, rivolgevano loro tutta insieme le portinaie d'amore e le sguaiate imprecazioni lanciate alle loro spalle da quelle deluse. Ogni tanto si imbattevano in altri gruppi, soldati cui sferragliava sulla coscia la spada, marinai come loro, borghesi isolati, viaggiatori di commercio. Ogni tanto altri vicoli s'aprivano occhiezzanti di roschi fanali. Instancabilmente i marinai continuavano ad avanzare attraverso quell'intrico di casupole, su quell'astrico scivoloso che trasudava acqua sporca, tra quei muri rigurgitanti di carne di donna. Alla fine Duclos si decise, e fermandosi davanti a una casa d'assai bella apparenza, fece passare avanti tutta la compagnia. Fu una festa completa. Per quattro ore i dieci marinai si saziarono di amore e di vino. Così se ne andarono in fumo sei mesi di paga. Installatisi da padroni nel salone dei caffè, guardavano con occhio ostile i clienti abituali che andavano a sedersi ai tavolinetti d'angolo dove qualcuna delle ragazze rimaste libere, vestita da bambina o da cantante di valietà, correva a servirli per poi sedersi vicino a loro. Non appena entrato, ogni marinaio si era scelta la compagna che doveva conservare per tutta la sera, perché alla gente del popolo i cambiamenti non piacciono. Erano state unite tre tavole, e dopo una prima bevuta la processione era doppiata, accresciuta cioè di tante ragazze per quanti erano i marinai, si era ricostruita sulle scale. Sui gradini di legno vi fu un lungo scalpiccio dei quattro piedi di ogni coppia, finché tutta la lunga fila degli amanti scomparve nella stretta porta che conduceva alle camere. Dopo un certo tempo le coppie scesero nel salone per bere, poi ritornarono su, poi scesero di nuovo. Abbastanza brilli, ora tutti schiammazzavano. Ogni marinaio, con gli occhi arrossati, tenendo la sua pupa sulle ginocchia, cantava o gridava, batteva i pugni sulla tavola, si ingozzava di vino, metteva in libertà il suo lato animalesco. In mezzo a tutti, Salestin stringeva contro di sé una ragazza alta, dalle gote rosse, che aveva fatto mettere a cavalluccio sulle gambe e che guardava con ardore. Meno ubriaco degli altri, pur avendo bevuto quanto loro, aveva anche altri pensieri e con una certa tenerezza cercava di imbastire una conversazione. Le idee gli sfuggivano. Se ne andavano, tornavano e sparivano senza che potesse ricordarsi con esattezza ciò che avrebbe voluto dire. Rideva, ripetendo, «Allora, allora, è da molto tempo che ti trovi qui?» «Da sei mesi», rispose la ragazza. Sembrò rallegrarsi per lei, quasi che questa fosse una prova di buona condotta, e continuò, «Ti piace questa vita?» Lei esitò, poi disse, con un tono di rassegnazione, «Si si abitua. Non è peggio di altri mestieri. Fare la serva o l'operaia senza lavoro fisso sono sempre sporche cose». Lui ebbe l'aria di approvare. Anche questo era vero. «Non sei mica di qui», chiese. Lei fece «No», con un stesso modo. «Di dove sei?» «La ragazza ebbe l'aria di raccogliersi, di cercare», disse a Fior di Labbra. «Di Perpignan». Di nuovo lui si mostrò soddisfatto. Disse, «Ah, ecco, lei a sua volta, sei marinaio tu?» «Sì, bella. Torni da lontano. Altro che lontano. Ne ho visti io, di paesi e di porti. Di tutto ho visto». «Avrai fatto magari il giro del mondo?» «Sì, l'ho fatto. Non una, due volte». Di nuovo lei parve esitare. Cercare in testa una cosa scordata. Quindi, con altra voce, diventando seria, ne avrai incontrate allora di navi, nei tuoi viaggi. Te lo credo, bella mia. Per caso, avresti allora visto, allora, la nostra signora dei venti?» Lui sghignazzò. «Non più tardi, di una settimana fa». Alla risposta lei impallidì. Il sangue le si ritirò dalle guance. Chiese. «È vero? Dici davvero?» «Vero come ti parlo?» «Non scherzi mica?» Lui alzò la mano. «Dio, testimonio». «Sai mica, allora, se sei sempre imbarcato, se le stendo clò?» L'uomo restò interdetto. Prima di rispondere volle saperne di più. «Lo conosci tu?» Fu la volta per lei di diventare diffidente. «Oh, non io. C'è una donna che lo conosce. Una di qui dentro? No, di qui a fianco. In questa strada? No, nell'altra. Che donna? Ma una donna come me, insomma. E che vuole da lui, questa donna? Che so io, quello che vuole?» Si guardarono in fondo agli occhi, spiandosi, sentendosi sull'orlo di una tremenda scoperta. Lui insiste. «La posso vedere, questa donna?» «Che le diresti?» «Le dirai che l'ho visto, sì, se le stendo clò». «Stava bene, almeno?» «Quanto teme?» «È uno ben piantato, quello lì». «Lai tacque, raccogliendo le idee. Poi esitante?» «Dove andava, nostra signora dei venti. A Marsiglia andava. Lei non rappresse un trasalimento. Davvero?» «Davvero? Tu lo conosci, Duclò?» «Lo conosco, sì». Visitò ancora, poi quasi tra sé. «Bene, allora. Che vuoi tu da lui?» «Ascolta. Tu gli dirai...» «No, niente». Lui la guardava, sempre più turbato. Infine volle sapere. «Lo conosci, tu?» «No», rispose lei. «Allora, che vuoi da lui?» D'un tratto la ragazza si decise. Si alzò, corsa alla cassa dove troneggiava la padrona della casa. Prese un limone, lo tagliò e spremette il succo in un bicchiere. Lo allungò con acqua pura e porse il bicchiere al marinaio, dicendo «Su, bevi». «Perché?» «Per farti passare il vino. Poi parlerò». Duclò beve docilmente. Si asciugò la bocca col dorso della mano e annunciò «Eccomi qui, ti ascolto. Promettimi di non andare a raccontare di avermi veduta, né di dire che sei venuto a conoscere quello che ti dirò. Devi giurare». Con aria assorniona lui alzò la mano. «Eccomi qui, lo giuro. Sul buon Dio?» «Sul buon Dio». «Allora tu gli dirai che suo padre è morto, che sua madre è morta, che suo fratello è morto, tutti e tre in un mese, di febbre tifoidea, nel gennaio 1883, tre mesi e mezzo fa. A sua volta Duclò sentì tutto il sangue smuovergli, sì, e per qualche momento restò talmente scosso da non trovare nulla da dire. Poi cominciò a dubitare. «Ne sei sicura?» «Ne sono sicura. Chi te l'ha detto?» Lei gli posò le mani sulle spalle e lo guardò in fondo agli occhi. «Giuri di non chiacchierare?» «Lo giuro». «Sono sua sorella». Involontariamente gli uscì dalle labbra il nome «Françoise». Lei lo guardò di nuovo, fisso. Poi, colta da uno spavento folle, da un orrore profondo, mormorò a voce bassissima, quasi nella bocca di lui. «Oh, tu sei Salastain?» Non si mossero più, gli occhi negli occhi. Intorno i compagni continuavano a vociare. Il tintinio dei bicchiari, il tonfo dei pugni e il battere dei tacchi che accompagnavano i ritornelli si mescolavano al frasfuono del canto punteggiato da strigli di donne. Lui sentiva su di sé, calda e terrificante, sua sorella. «Allora sottovoce, per paura che qualcuno lo ascoltasse, così basso che anche lei stentò ad utirlo?» «Valedizione! Io l'ho fatta grossa!» A lei di colpo sempirono gli occhi di lacrime, malbettò «È colpa mia!» Subito lui «Allora sono morti, morti!» «Madre, padre e fratello! Tutti e tre, in un mese!» Te l'ho detto. Io rimasi sola, non avendo che i miei stracci, perché i mobili dovettero essere venduti per pagare il farmacista, il dottore e le specie dei tre funerali. Andai a servizio da Mastro Cachò, sai, lo zoppo. Allora avevo quindici anni giusti, perché tu sei partito quando ne avevo quattordici. Con quel tipo ho cominciato. Una è così stupida quando è giovane. Poi andai come domestica dal notaio, che anche lui si approfittò di me. Mi mise in una camera le avre, ma dopo qualche tempo non si fece più vedere. Passai tre giorni senza mangiare e non riuscendo a trovare lavoro, entrai in una di queste case, come tante altre ragazze. Anche io le ho visti, di posti. Ah, di sporchi posti. Juan, Evro, Villain, Bordeaux, Perpignan, Nizza e infine Marsiglia. Dove mi hai trovata? Le lacrime le uscivano dagli occhi e dal naso. Le bagnavano le guanze e le entravano in bocca. Lei continuò. «E poi credevo che anche tu fossi morto, povero Celestin». Lui disse «Io non ti avrei riconosciuta. Eri così piccola allora. E guarda ora che ragazza robusta. Ma tu, com'è che non mi hai riconosciuto?» Lei fece un gesto disperato. «Sono tanti gli uomini che vedo che mi sembrano tutti uguali». Lui la guardava sempre in fondo agli occhi, preso da una commozione confusa e così forte che avrebbe voluto gridare come un bambino battuto. La teneva ancora fra le brazza, cavalcioni su di lui, con le mani aperte sulle spalle della ragazza. Infine, a forza di guardarla, la riconobbe. La sorellina lasciata al paese insieme a coloro che lei aveva visto morire, mentre lui vagava sui mari. Allora, prendendo ad un tratto fra le sue manacce di marinaio, quella testa ritrovata, si mise a baciarla, come si bacia una carne fraterna. Singhiozzi d'uomo. Singhiozzi lunghi come ondate gli vennero in gola, simili a rigurgiti di ubriaco. Balbettava. «Sei qui, sei qui, Françoise, mia piccola Françoise». Poi salzò bruscamente e si mise a bestemmiare, con una voce formidabile, battendo un tale pugno sulla tavola che i bicchieri si roveciarono e si spezzarono. Fece tre passi, barcollò, stese le braccia e cadde sulla faccia. E si rotolava per terra, gridando, percuotendo con gomiti e braccia il pavimento, emettendo gemiti che farevano rantoli d'agonia. I suoi compagni si erano tutti voltati e lo guardavano ridendo. «Non è mica fradicio», disse uno scherzando. «Un altro, bisogna metterlo a letto. Se va fuori in quello stato, lo ficcano dentro». Allora, siccome aveva ancora del denaro in tasca, la padrona offrì un letto. I suoi compagni, malfermi anch'essi sulle gambe, lo portarono su per l'angusta scala, sino alla stanza della donna che lo aveva ospitato sino ad allora. Françoise restò su una sedia, ai piedi del letto sciagurato, piangendo con lui, fino al mattino. Grazie. 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 Grazie.